Il nostro esperimento vuole dimostrare il fenomeno dell'attenazione sonora. Se noi prendiamo ad esempio un microfono, che nel nostro caso è dato da un telefono, attraverso il quale generiamo dei suoni, ed un ricevitore, che corrisponde ad un secondo telefono, che avrà il compito di ricevere i suoni e degli ostacoli, che possono essere legno, plastico o metalli, possiamo facilmente dimostrare il fenomeno dell'impedenza sonora, in gergo chiamata anche attenazione acustica. Prendiamo dunque il nostro microfono e generiamo un suono di 839 Hz di frequenza. Notiamo che, spostando il ricevitore, cambierà anche la potenza sonora ricevuta. Se a 2 cm la potenza ricevuta è infatti di 80 dB, se spostiamo il microfono a 4 metri, la potenza diminuirà fino ad arrivare a 50 dB, così secondo una retta discendente in relazione alla distanza tra i due telefoni. Fin qui tutto normale. Se urliamo in un orecchio di una persona, infatti, questa diventerà sorda, rispetto a se la chiamiamo da 40 metri di distanza. È il tipico esempio di attenazione acustica dovuta all'aria. Ma l'aria non è l'unico materiale in grado di dare una certa resistenza acustica. Anche legno, ferro o plastica possono dare una certa resistenza al suono. Anche qui nulla di nuovo. Se noi urliamo in un bosco, infatti, saremo diti di meno rispetto a se urliamo in mezzo al deserto del Nevada. Ma come si determina la resistenza data da un certo materiale? Notiamo come ogni materiale possieda un certo coefficiente di trasmissione, CV, calcolabile tramite la formula AT fratto AI, ovvero onda trasmessa fratto onda iniziale. Questo coefficiente potrà variare da 0 a 1. 0 indicherà un perfetto fonoassorbente, mentre 1 un pessimo fonoassorbente. Ed è proprio qui che si basa il nostro esperimento. In primo luogo abbiamo provato con un primo fonoassorbente e poi con un secondo. Notiamo dunque che come l'acciaio lascia passare 54 dB, il legno ne lascia passare solamente 32. Ma perché accade tutto ciò? Se noi mandiamo un'onda sonora contro una parete, questa si dividerà in tre. Un'onda riflessa, che quindi si diffonderà per spreading in senso opposto all'onda iniziale, che dipende dal coefficiente di riflessione di un determinato oggetto, un'onda assorbita dalla parete, sotto forma di calore, in relazione al coefficiente di assorbimento della parete, ed una terza, chiamata onda trasmessa, quella in cui ci siamo già occupati in precedenza, che dipende appunto dal coefficiente di trasmissione dell'oggetto, ed è quella che interessa maggiormente quando si parla di alternazione sonora. Ecco spiegato dunque il fenomeno dell'eco in montagna, che permette di comunicare anche da grandi distanze. Dal punto di vista dell'applicazione dei materiali fonoassorbenti, questi trovano un ampio spazio nella nostra vita quotidiana, a partire dalle semplici cuffie per arrivare alle pareti fonoassorbenti. Se Ben Simmons infatti vuole provare con la sua band nel suo garage, suonando darebbe fastidio ai vicini. Se non si fosse munito di pareti fonoassorbenti, crendono tranquilla la vita di suoi coinquilini. Esiste tuttavia una curiosità per quanto riguarda le pareti fonoassorbenti stesse. Queste infatti, se sono di buona qualità, oltre ad avere un bassissimo coefficiente della smissione, che non permette dunque al suono di passare, hanno un minimo coefficiente di riflessione, calcolabile con onda iniziale fratto onda riflessa, che riduce quasi a zero l'eco, permettendo a Ben Simmons di diventare famoso con i suoi kiss.